Salve amici, tutto ok? Salire in macchina, girare la chiave ed invece del motore partono le bestemmie. Poi ricordi di essere un riciclatore incallito e di avere buttato da qualche parte un vecchio alimentatore ATX per PC. Bene! Trasformarlo in un potente ricaricatore per batteria ci del piombo da 12 volt per automobili dovrebbe essere un gioco da ragazzi. Procediamo. Per ottenere un voltaggio ed un amperaggio adeguati bisogna semplicemente verificare che il circuito integrato sia un TL494 oppure un K7500 oppure uno equivalente e saldarci una resistenza da 13.000 Ohm, magari riciclata, tra il pin 1 e la massa, ciò porterà la tensione a vuoto a circa 14,3 volt capace di erogare se collegato ad una batteria auto circa 2,2 ampere. Rimontando il tutto, creando un ponte tra il cavo verde ed una massa per accendere l'alimentatore e modificando qualche connettore siamo pronti per tentare di rianimare la batteria. Se tutto andrà per il meglio, non è presente eccessiva solfatazione e non ci sono problemi meccanici, si arriverà ad una tensione ai poli di circa 13,80 volt. Dunque una batteria completamente carica. Funzionerà? Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorse a chi volesse initare la procedura illustrata nel video occhi a scopo di puro intrattenimento. Buona visione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.